Beccati con le mani nella marmellata perché grazie al lavoro delle opposizioni che hanno evidenziato un emendamento veramente fantasioso che prevedeva il taglio di 600 mila euro al Ciapi. Dopo anni di battaglie e di urla in Consiglio regionale, a difesa del Ciapi, poi improvvisamente chi ieri era minoranza e oggi maggioranza, si fa carnefice di un'azione veramente al limite del verosimile. La Lega, autrice di questa azione, ha dovuto ritirare l'emendamento in Consiglio regionale per poi vedere il capogruppo della Lega vantarsi di aver approvato un dispositivo di legge che farebbe ripartire l'economia in Abruzzo per aver abrogato leggi obsolete. Un dispositivo normale di ordinaria amministrazione, ciò che fa ripartire l'Abruzzo è ben altro, sono nuovi dispositivi di legge e azioni ben precise. Ancora una volta va registrata l'assenza del Presidente della Regione, non c'è stata data spiegazione o motivazione della sua assenza, non si comprende se il Presidente rimane incagliato nel traffico e quindi ha difficoltà a raggiungere l'Abruzzo oppure se è impegnato in impegni istituzionali.